facciamo l'ultimo aperitivo di fine stagione facciamo la stagione che chiude come le scuole appena prima di prima di agosto per prima della chiusura di agosto senza compiti delle vacanze però perché c'è troppa roba senza compiti delle vacanze non ci saranno i compiti non ci saranno i voti e poi ripartiamo a sembra in realtà c'è che c'è che li ha i compiti della carta non vengono dati a tutti gli associati ma qualche associato i compiti della carta cioè ecco quindi volevamo vedere condividere il fatto di quello che abbiamo fatto magari ricordare qualche appuntamento che avremo con l'inizio con settembre quindi potete anche già vagare con la mente al caldo e fresco autunnale quali saranno gli appuntamenti e quindi possiamo già proiettarci sul post vacanze e sulla progettualità e facci gli auguri per le buone vacanze immagino che tutti voi più o meno qualche giorno attaccherete a breve quindi poco più poco meno immagino che tutti avremo qualche giorno di sosta dico bene dice bene ok bene ottimo senza trascurare però di tenersi connessi ogni tanto è perché sta venendo fuori una pioggia di nuovi bandi per l'internazionalizzazione uno dietro l'altro tutti adesso tra l'altro con scadenza 10 settembre 5 settembre è sempre più e questo discorso nostro è anche quello di andare dall'azienda portagli sia il progetto export sia la fonte che lo finanzi perché però se se non ci sargono subito quando ci sono i bandi e ho visto mi sembra che quello di di emilie romagna quindi territorio tuo anche giovanni che il il consulente estero che vuoi ingaggiare per il progetto devi menzionare forse infatti il progetto di progetto quando fai le domande è corretto non lo scegli dopo generalmente sì perché comunque viene viene valutato perché ti dà un punteggio visto di avere almeno 6 o 0 6 viene valutato quanto sia e poi appunto da questa volta viene indicato bisogna specificare se ha già la certificazione action manager non so quanto valga di più varrà qualcosa sicuramente ma non so dirti quanto valga di più e questo valorizza tutto quello che abbiamo fatto con la assolutamente assolutamente sì perché anche nel bando a lombardia che non so via esaurito in pochissimo tempo contava l'ex manager ma potevi scegliere dopo ma era diverso perché lì e cioè il concetto l'ex manager deve avere dei requisiti minimi diciamo di base che possono essere esperienze maturate degli anni eccetera però immaginando che uno fa il consumente da duonesi però è stato manager in azienda per tanto tempo ha la certificazione ottene la certificazione anche se non ha un pregresso di attività consulenziale non ha le referenze non ha tutto quanto è però elegibile non come fornitore quella discriminante nel mia romagna invece ti dice vuole sapere quanto è esperto nel mercato inteso geografico mercato tale quanto è esperto nel settore mercologico nel quale opera l'azienda e poi se ha la certificazione e poi dopo come tu ci sono quei sei punti da 0 a 6 adesso da 0 ragione nessuno ci siamo da 2 3 a 6 che ti puoi giocare a volte è un punto 2 può fare la differenza anche nel gradatore finale infatti che ti dice che vanno vanno per ho visto per punteggio quindi punteggio 100 se ci sono fanno prima tutti i 100 99 quando arrivi alla fine dei soldi vai per parità di punteggio è la priorità di data e quindi da li vai dopo c'è una soglia minima di ammessibilità ma generalmente si sta molto più su perché la soglia minima 60 ma gli ultimi l'ultimo bando l'anno scorso secondo me erano arrivati a quasi 80 comunque stavamo molto più su l'anno scorso la premialità com'era qualcosa che cosa veniva in cui l'anno scorso c'è la necessità dell'aiuto dici si no è tra la premialità per raggiungere gli 80 punti invece di 60 no 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 0 100 cioè se non sei 60 però giocavi con tutte le parti tutte le componenti del progetto da per arrivare da arrivare al più alto possibile cioè il concetto è che non basta arrivare al minimo dici sono passato perché comunque dipende poi c'è quella che ha disponibilità finanziaria del recettivo e qualche volta è capitato che l'hanno rifinanziato però sì sicuramente ci sarà una bella corsa io ho visto avevamo un'azienda con il bando digitale e ci hanno scattato un'azienda è stata scattata che era al quattro millesima quattro millesima nell'invio delle domande sono arrivate a 1960 nel 1980 come acquisizione di domande le altre sono rimaste fuori quindi essere essere davanti come punteggio o come data di presentazione è importante ma guarda ti dico data di presentazione coinvolgerà veramente pochissime aziende c'è sicuramente la cosa più importante è lavorare sulla bontà del progetto c'è la domanda che sia la più articolata ma anche come componenti di voce di spesa cioè riuscire a fare un mix di interventi perché dice mette un sacco di soldi a fare il tempo non passa non passa quindi anche cioè tra virgolette dobbiamo fare quasi gioco contro contro di noi e dire mettici del digital marketing mettici un evento b2b mettici anche questo no quindi spalma il budget perché non troppo perché dopo diventa troppo diluito e anche quello non piace però però devi buttare giù almeno tre quattro voci di spesa indicativamente assolutamente deve essere deve essere il team è importantissimo ma deve essere un pezzo del progetto non può essere solo consulenza o poi poi non voglio passare polemico ma vale tutto nel senso ovviamente chi dà i voti sono delle persone io vi posso dire che l'anno scorso cioè su base dei progetti uno mi ha chiamato e mi ha detto guarda domani devo fare quando però dai mi fai un preventivo da 5.000 euro 6.000 euro cosa ci faccio con 6.000 euro dai fammi sto favore quindi dopo fa domanda guarda secondo me però non passa beh è passato quindi vai a capire tanto non so che cosa farò cioè perché adesso l'ha preso ancora dobbiamo cominciare il progetto non so che cosa farò per 6.000 euro quanto articolato gli hai fatto il progetto sei stato molto ma io niente ho fatto ho fatto un copio in colla di un altro aspetto ha mandato preventivo con scritto 6.000 euro un paio di paginette una cosa io ho scritto una facciata lui ha fatto la domanda perché abbia preso un punteggio ha messo anche altre cose ovviamente cioè ha messo i miei 6.000 euro e altre voci di spesa però uno che valuta dice ma questo qualche fa un tempo ingaggia un tempo per 6.000 euro dove vuole andare voglio dire ma giovanni altri telefonati almeno però però lui ha avuto un buon punteggio probabilmente merito delle altre voci di spesa quindi c'è alla fine ribadisco sono delle persone che danno i voti quindi ci sono anche poi delle cose che non è che sono anche difficili da interpretare non vuoi fare polemico però ma chi sono gli altri invece gli altri bandi dice che sono in uscita a marchi a marchi ma è uscito una roba in trentino adesso sarà contenta eva in campagna l'ho scoperto e oggi uno nel veneto tra l'altro è tutto nascosto questo l'ho scoperto per caso è appena uscito con tutto che sono iscritto camere di commercio tutte le altre cose no perché poi i canali con quelli comunicano sono i più stravalli sempre tutta roba che bisogna muoversi perché agosto settembre scade tutto è uscito un altro in Puglia ma scusa quello di Puglia non l'avevo visto quello della Campania anche questo con scadenza settembre stamattina lo me l'ha fatto vedere un cliente Union Camere Campania è già partito però addirittura sì 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 quello Puglia era quello delle camere di commercio sì e ora ne è uscito un altro che lo prende di riflesso il lato export che si chiama trasformazioni ma lo stesso criterio di quello che dicevamo di Emilia Romagna c'è se dentro anche lì la premialità Exim il progetto di già fare la domanda prima sì non ecco non conta tantissimo la certificazione ancora però c'è il discorso come ha detto anche Giovanni dell'articolazione del progetto ma il tema lo decidi prima o lo decidi dopo che ti è andato lo decidi nel progetto quindi devi già identificarlo prima sì 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 quindi noi temi se potremmo fare essere dentro dobbiamo trovare prima l'azienda di noi che si chiama con questo progetto eh sì no no quando una volta che hanno pregare un po' tutto già sì deve essere già tutto deciso il problema è che anche le aziende sono frastornate per esempio sul bando come si chiama quello del bonus c'è uno spamming incredibile alle aziende che sono state che hanno ottenuto il finanziamento ricevono decine di chiamate ogni giorno da di tutto di più no che proprio per scegliere un tema invece che l'altro da sicuro sicuro a me ha sorpreso il fatto che cioè pensavo visto che è la prima volta che fanno bonus export digitale plus però c'era stato il bonus export digitale prima mi aspettavo che gli abbinamenti fossero già in larga parte già definiti no cioè azienda beneficiaria invece mi sta chiamando anche ieri sera mi ha chiamato un consulente che conosco ma tu sei accreditato che non ti trovo perché mi aveva cercato senza punti non mi trovava la partita iva cioè quindi capisco che era con un'azienda perché non ne avevamo mai parlato che un'azienda che sta ancora cercando e altri che mi chiedono ah ma quindi uno c'è scritto anche in chat ma gli accreditamenti come come sono quindi c'è comunque effettivamente ancora cioè in preparazione possiamo dire su questo su queste c'è molto confusione anche se su questo specifico strumento l'informa a parte la rendicontazione ma fino ad adesso l'informazione la chiave in assoluto con tutti i difetti è il più chiaro eh dico bene sia il precedente voce assolutamente il il sistema meno meno farraginoso più lineare anche nei tempi non ci sono stati cambi di date che ci sono sempre quindi voglio dire è stato uno dei più anche perché di fatto era un po la ripetizione di qualcosa con importi corposi in pratica stavano usando i residui dell'altro bonus che sono resi conto che i 4 mila euro erano ridicoli insomma della di sicuro c'è questo che le risorse che ci sono adesso in futuro non ci saranno io questo sto dicendo alle aziende muovetevi perché adesso è un buon momento perché in qualche modo devono spendere soldi di pnrr di roba del genere perché i grossi fondi vanno sempre alle grandi società quindi su queste piccole 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 partite le piccole aziende devono devono avere l'intelligenza di approfittarne al volo insomma questo questo è un'altra cosa Giovanni se stiamo parlando a tutto campo su tutto quali partner non stavamo parlando con quelli di ampio raggio però la cosa la possiamo fare anche a go international di velocizzare in qualche modo o aprire un task su quali partner per trasformarlo in uno strumento agile di 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 matching e di durante 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 gli incontri no al gol e io che saperemo eh no fare per esempio un discorso dove è logico che a go international il punto d'incontro è il nostro stand però voglio dire ehm noi questa cosa la facciamo usando la nostra chat dove saremo a go international un giorno tale incontriamoci e questo va bene però ci sono una serie di partecipanti che magari non sono iscritti al nostro chat perché non sono associati che potrebbero essere coinvolti ed è una percentuale molto molto grande da questo punto di vista e allora la logica poteva essere di ampliare lo strumento quali partner mettendosi su una funzionalità che magari poi rimbalza su 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 whatsapp e non è non è che dobbiamo fare qualcosa di 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 stravagante però l'impianto ce l'abbiamo su quali partner no e magari con una modalità diversa legata solo agli incontri perché quali partner oggi ha questo questo filtro che in qualche modo eh va bene però è anche richiede anche un una fase intermedia di di valutazione chiedo a giovanni magari l'ha usato il discorso di incontri uno a uno è io sono presente a mirano il 25 settembre troviamoci allo stand io sono presente a quali sono gli altri eventi impact oppure eh jetzin il 2 ottobre troviamoci in questa occasione e lo rendiamo disponibile però anche agli organizzatori eh su 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 questa cosa eh potrebbe essere una un un discorso che può aumentare in qualche modo la la al limite è solo marketing associativo è questo il traffico sul sito potrebbe mi chiedo se è fattibile che eh si crea un link una landing page del facciamo i controlli questa landing page quindi l'abbini a un ma sparo un calendri un una piattaforma di calendario quel giorno quell'ora per l'incontro con e nell'incontro con anche direttamente su whatsapp ci sono applicativi di questo tipo esatto per cui tu hai un data giorno questo questa persona che si iscrive però questa deve essere una sorta di landing page poi tu su linkedin pubblici vuoi fare un incontro con i nostri associati clicca qui e vai sulle pagine calendario ci sono lì quel giorno a quell'ora e potrebbe forse avere un senso poi c'è da fare il matching con con quali partner ma già lì mi fai modo di chiedere qualche informazione questa persona chiede un incontro per o di di questa gente chiede un incontro il punto è farlo passare attraverso la nostra piattaforma perché quello che bisogna capire questa landing page cosa abbina oltre che ci sarà questa questa persona quindi secondo me è tutto parte dalla landing page mi spiega anche Francesco che strumenti strumenti tipo calendari ce ne sono tanti no anche molto pratici non è che dobbiamo inventarci un calendario nuovo no 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 se lo fai soltanto su c'è una cosa che ce l'ha anche google meet mi sembra una funzionalità di questo tipo però l'importante è fare una roba che deve essere caratterizzata dal fatto che è l'ambiente dell'unisport manager che lo che lo che lo caratterizza perché altrimenti non ha senso andiamo a fare da noi perché non sono eventi nostri voglio dire capito questa questa pagina la pagina per forza va fatta ma la c'è sì no la mettiamo sul sito di unisport manager ma poi quando dice qualcuno vuoi fare un appuntamento con i nostri associati con i nostri export manager clicca qui e punta magari sulla stessa pagina di unisport manager con la scelta quando ci sarai e sarai presente quel giorno a quell'ora no creare proprio un discorso un po di digital claudio creare proprio un discorso un po simile alle prenotazioni delle camere di hotel per parlare ecco per dirne una no come il book invece della stanza dell'export manager ok chiamiamola così però ecco si crea un discorso di calendario con tutta una serie di eventi preimpostati dove nel click del calendario si apre si vedono le varie date le varie location eccetera così da creare il matching un'altra cosa che io metterei proprio anche nella piattaforma nella pagina di quali partner è anche quello di un form di contatto un po come si vede nella pagina contatti di ogni sito internet dove l'azienda che vuole candidarsi può compilare questo modulo e scrivere un po insomma dei dati un po quello che gli serve è il polo ce l'abbiamo già questo c'è già però non ho visto lo stavo rivedendo ora sulla pagina quali partner è la pagina che serve per mandare le richieste ok però ecco se io clicco al volo ora lo sto vedendo vedo da non registrato per caricare la domanda si deve registrare ok anche l'agenda si deve registrare eh sì eh sì eh allora allora gli annunci le richieste si vedono anche da non registrati ok non devi fare login per caricare nuove richieste devi logarti invece ok però attenzione è un login diverso da quello del sito unire che è riservato agli associati sono due loghi diversi poi tu puoi scegliere usare la stessa merce a password però sono due loghi certo ok sì però magari forse lo dobbiamo specificare meglio perché sì c'è il discorso login e registrati però magari non è non è molto chiaro dici allora purtroppo ecco noi che realizziamo dal lato comunicativo anche siti internet stiamo vedendo che anche se scriviamo a caratteri cubitali una cosa non la leggono quindi ormai tutti hanno l'attenzione più basso una volta si diceva del pesce rosso adesso è di meno quindi purtroppo sì quindi lo specifichiamo in grassetto registrati per candidare la tua non lo so sarebbe la prima con due giustamente certo magari è più semplice prima di mettere a caratteri cubitali devi registrati hai capito clicca qui se hai capito però magari specificandolo meglio aiuta purtroppo va bene chiaro ci si può ragionare volendo potrebbe avere un senso questi questi da ampio raggio ti dicevano la la richiesta che l'avevano fatta sì diciamo che c'è questo evento che viene l'undici e 12 ottobre a merano no che è una roba ci saranno duemila persone sponsor tipo ferrovie team roba del genere una cosa grossa no noi ci facciamo quella figura perché abbiamo il patrocinio in bella vista e non ci costa niente però nello stesso tempo ho promesso che tutti quelli nostri che saranno presenti fino adesso so che saremo soltanto io e la eva micheli che che gioca in casa ovviamente e offriranno gratuitamente una loro consulenza alle aziende presenti che saranno soprattutto start up piccole aziende oppure organizzazioni di questo tipo nell'ambito degli incontri organizzati dalla in questo evento e questo è più o meno mi ricordi le date sono mi sembra dal 7 all 11 ottobre e poi quelle che contano sono dall 8 al 9 in pratica perché una settimana è una roba pazzesca insomma dice dal 7 al 13 addirittura figuriamo che se lo gioca a livello di marketing anche loro territoriale quindi sì perché giusto per fare un recap ai presenti noi avremo una serie di appuntamenti ci sarà prima il go international che sarà un doppio evento ci sarà il go international con la nostra presenza a fine settembre cos'erano le date esatte erano il 25 e 26 go international 25 e 26 no quindi 25 facciamo anche l'assemblea tra l'altro la sera è il secondo appuntamento che ci saranno due appuntamenti legati allo stesso evento che ci sarà anche l'assemblea un expert manager no quindi questo è un doppio appuntamento quindi è l'occasione in cui ci siamo visti tanti di noi ci siamo trovati come associati l'anno scorso ed è ormai da due anni sempre il punto d'incontro un po per chi più agevole per chi meno ma per tanti degli associati in occasione dell'assemblea a maggior ragione poi ci sarà questo evento qua di mirano che anche questo è un appuntamento importante dove si può incontrare le aziende ovviamente un po' territorialmente spostato verso una zona specifica ma esiste un appuntamento in cui siamo coinvolti e poi ce ne sarà un terzo di un quarto di appuntamento quindi i primi due assemblea international merano il subito dopo c'è la cosa di impact che è una specie di fiera di consulenza a padova organizzata sempre lì dal collega guglielmo destro che diventare il business questa cosa ormai e non fa più le sport manager ormai fa questa cosa qui c'è dentro federitaly e anche lì diciamo che abbiamo uno stand condiviso con federitaly che ce l'offre la fiera e dopodiché vedremo se trovare devo parlare con guglielmo delle opportunità per qualcuno dei nostri che vuole partecipare con degli sconti e poi gliele chiediamo insomma può essere interessante padova effettivamente l'idea non è male di una fiera dei servizi non è non è focalizzata sull'export è una fiera dei servizi di consulenza in generale quindi è un po più ampio il il raggio però anche quello nicola dice che c'è il cersaie purtroppo queste date qui non le possiamo non le possiamo giocare non le decidiamo noi ecco la procedura e comunque dal punto di vista di appuntamenti ed eventi stiamo crescendo siamo sempre più presenti anche gli eventi istituzionali sono stati presenti agli appuntamenti di roma sono stati presenti al wine in venice quindi sicuramente noi adesso abbiamo una presenza che si sta spostando anche su più evidenti durante l'anno che non è poco poca cosa assolutamente no e grazie al cielo perché altrimenti sarebbe un esaurimento nervoso perché già tenere digital per cosa tenete presente che lo staff siamo noi e non è che ci siano da quindi vanno vestite però se dio vuole ce la stiamo facendo insomma e poi vedo che ci sta molto interesse anche questo connubio con andrea aveva fatto forse anche un talk su questo sul connubio tra le competenze dell'export manager inteso come export e anche come abilità nel campo del turismo per cui ce n'è parlato e sta spesso emergendo come tema anche questo ma poi quello che sta succedendo che all'export manager gli si chiedono sempre più cose e lui deve saper rispondere ma è impossibile avere tutte le competenze di tutti i settori e quindi la logica è sempre quella della collaborazione che è la missione associativa che abbiamo di facilitare l'interazione fra fra di noi ecco quindi questa è bravo dai sono tutti ammari colleghi eh Nicola Diego vedo che sono telecamere spente quindi potrebbero essere quei piedi in ammollo magari non lo so privacy non si fa vedere privacy non si fa vedere vi ci sta e la voi progetti di cose particolari che avete per il post vacanze o il Lidia e Andrea come siete messi? io sono sempre impegnata con i miei cantieri in Sicilia quindi stiamo terminando l'approntamento di tutta la parte turistica dell'azienda per la quale faccio consulenza della quale sono anche amministratore credo e spero entro la fine dell'anno di aver riconclusi più o meno tutti e almeno per questa fase poi magari ci saranno anche quando parlavo di connubio col turismo non pensavo direttamente a te ma vedo che ci sei dentro a pieno eh sì sì diciamo che eh sì è l'altra cosa come sempre è l'altro progetto scientifico dell'azienda in cui anche lì sono advisor al momento però è molto complicato molto complesso perché quando si parla di ricerca scientifica in Italia e qui faccio come Giovanni un po' la polemica ahimè eh dico sempre se fossimo stati negli Stati Uniti sarebbe stata un'altra vita qui in Italia invece trovare soprattutto delle aziende che possano fare un po' da mentor a dei progetti simili è molto molto complicato i soldi ci sarebbero anche è proprio trovare Sì 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 i fondi ci sono tanti però bisogna trovare assolutamente è vero è vero è vero cioè non è una questione di eh mentalità di ricerca e sviluppo in ampinamento con la realtà delle aziende e gli apparati statali di ricerca proprio mancano mancano i collegamenti mancano mancano proprio i canali mancano mancano anche molta gente che sappia portare in azione il fare questo collante tra i soldi disponibili per i progetti e la progettualità per farli passare perché noi vedo che noi abbiamo tantissimi progetti e tantissimi soldi che vengono immobilizzati e non spesi perché manca quel pezzo lì è vero è vero però mi sto rendendo conto che c'è proprio eh diciamo uno scollamento tra quelli allora faccio una parentesi scusate poi se mi delungo fermatemi e bloccatemi le aziende non fanno più ricerca e sviluppo per un motivo molto sensato che costa tantissimo e quindi chiaramente non sono più in grado di fare ci sarebbero tante piccole micro aziende anche giovani start up ehm diciamo ehm programmi del delle varie università dei dei politecnici eccetera che hanno delle belle idee il problema è che manca collegamento questo collegamento cioè le aziende non possono farlo e le capisco costa le fan li fanno altre entità a livello embrionale però non riescono a staccarsi dal modello embrionale perché chiaramente non trovano l'azienda di supporto quindi ci vorrebbe proprio questo questa colla che permetterebbe all'Italia di essere dal punto di vista dell'innovazione che è quella che a noi interessa perché poi a quel punto sì che servirebbe un project manager un team qualcuno che aiuti in questo senso però manca questo collegamento non c'è in Italia non c'è per cui non stanno buttando giù veramente tante risorse sprecate proprio perché non riescono ad arrivare a quella valanga di piccole aziende che la ricerca e sviluppo la fanno perché devono la fanno per sopravvivere no? però potrebbero 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 farlo in modo più serio non è non so se avete letto la vicenda della zona ZES per il sud no? la mitica in pratica zona sviluppo industriale che stabilisce a favore delle aziende del sud uno sconto importante su contributi su incentivi su altre cose no? che salve Nicola che doveva che doveva essere praticamente originariamente il 60 per cento 65 per cento dopo hanno cominciato a mettere una soglia del 200 mila euro che chiaramente taglia fuori tutte le piccole aziende che devono investire 50 60 in più nonostante questo su questa roba qui hanno fatto i conti e si sono accorti che è il massimo che possono utilizzare stiamo parlando non di soldi di credito fiscale però sono sempre soldi sono fermi al 17 per cento il che diventa una presa in giro cioè fai un bando ne parli dal 65 scende al 17 ti rendi conto che l'incentivo affievolisce tantissimo insomma su questa cosa Giuseppe c'è un altro punto molto essenziale chi fa i bandi scusatemi se sono molto transciante oggi chi fa i bandi probabilmente non è a conoscenza specifica innanzitutto di come funzionano le aziende e di quale anche è il substrato di lavoro di queste agenzie come operano le aziende oggi in Italia per cui sono i bandi molto belli ma sono poco non poco attuabili difficilmente attuabili sono anche semplici sono anche fatti bene cioè nessuno dice nulla c'è tutto dentro però si rivolgono probabilmente a uno stato delle cose che non è quello attuale ma è uno stato ideale che forse andrebbe bene in Francia è così potrebbe andare bene che in Germania ma forse in Italia c'è bisogno di un appello ma ci ascoltassero quando le cose gliele diciamo io ricordo tutta questa cosa del per esempio del voucher time che era una misura da potenziare perché funzionava non solo noi ma quando hanno fatto gli incontri al MAECI per chiamare tutte le associazioni eravamo tutti d'accordo e lì c'è lo stesso per promuovere per rilanciare quella misura l'hanno fatto? No vi dico un'altra cosa adesso ci sono tutti quelli delle start up che stanno protestando perché le start up dovrebbero essere in questo momento il traino dell'innovazione e allora questo mi diceva un collega dell'associazione delle start up adesso non mi ricordo start up Italia una roba del genere mi sembra che si chiamino così hanno fatto anche lì tutti quanti gli stakeholder una specie di manifesto con dieci punti per quello che serviva per potenziare le start up perché come dicevi tu la start up se va in America o in Spagna con una buona idea va avanti da noi non c'è bene di questo manifesto dieci punti non hanno fatto la legge che in teoria per potenziare le start up hanno partorito un topolino neanche un punto di quei dieci punti che avevano concordato con il ministero quindi i personaggi che sono nei tavoli ministeriali continuano a fare andare ignorando ignorando poi non è cambiato molto sotto il sole dici da una parte ti fanno la facciata di chiamarti a dare suggerimenti poi da lì non ne mettono in pratica unico e dopo di che diciamo a noi rimane sempre questo ruolo di essere in mezzo trade union fra le aziende e quello che c'è disponibile e la possibilità di portarli a casa dei risultati e ci proviamo insomma facciamo del nostro meglio dai adesso ci riposiamo un po' comunque anche per il turismo ci saranno molto e anche per il turismo stessa cosa avete visto ultimamente dei titoloni giornali vengono lì fanno i grandi programmi il turismo il turismo è cresciuto ci credo dopo il covid è logico che la gente che non ha speso per due anni durante il covid l'hanno ammazzato il turismo il problema è che io parlo per la Sicilia che è una zona molto particolare e che è distrattata in questo periodo c'è stato sì una bellissima ripresa in aprile maggio metà giugno adesso è completamente bloccata tranne il settore del super mega lusso super mega lusso funziona bene è il discorso che facevamo prima in introduzione sul costo delle camere business nelle città diciamo più interessanti si sta tutto incanalando verso l'alto quindi stanno aprendo tanti alberdi ma sono tutti 5 stelle lusso super mega cari super mega organizzati la teoria libriatone insomma quindi questo è non so io vorrei lanciare se c'è qualcuno all'ascolto lanciare proprio ritornare una catena dei classici tre stelle business con dei servizi veramente business forse il bar aperto tutta notte a noi interessa anche poco magari interessa una bella colazione al mattino magari anche il cestino con il panino così in fiera assolutamente di tre chilometri al bar e un buon wifi e un letto comodo e questi perché non vanno capisco che magari in agosto questi non hanno lavoro del business però in luglio e giugno perché non andavano questi qua no io sto parlando della Sicilia Sicilia ha un turismo non ha tanto business privato un turismo ma più che altro perché in questi anni si è distrattata l'idea che in Sicilia fa un caldo che si muore per strada vi assicuro che fa più caldo a Varese che non a Siracusa in questo momento sono la mia arma di credo esatto per cui la gente non va tanto si parla sempre solo di disservizi l'anno scorso c'erano gli incendi e l'aeroporto fermo quest'anno dicono che c'è la siccità che non c'è l'acqua e non ci si può fare la doccia cosa che non è vero non è vero evidentemente hanno tutte le cisterne e la doccia la si può fare però è proprio ormai si sta canalizzando che in Sicilia non si va d'estate ma ci si deve andare in stagioni di spalla se fanno in altre stagioni va ancora bene però il grosso italiano viaggia in questo comunque anche lì come sempre in tutti i settori ci sono un sacco di cose da sistemare un sacco di idee anche il turismo è una bella tematica e molti pensano che il turismo non c'entri con l'export invece è la forma di esport più potente che ci sia che non costa niente tutto quello che arriva rimane qui evidentemente non è che dobbiamo comprare materie prima per attrarre il turismo no no il patrimonio culturale artistico e di paesaggi ce l'abbiamo sempre lì a disposizione il fatto è che poi conta come diceva Lidia lo storytelling che c'è dietro perché se lo storytelling ti racconta una realtà che non corrisponde al vero tu ti sei fatto del male e il turista che ascolta quello storytelling qua non ci viene e tutti si è giocato un pezzo di Disney quindi bisogna lavorare anche su quello Andrea invece che sul pezzo lui cosa dice di questa roba del turismo Andrea Monti era mica anche te anche te sul fronte a un po' turismo no sbagliavo no no sbagliato ma no era non eri te era un altro ho sbagliato un altro Andrea non c'è nessun problema no la parte turistica l'ho toccata in passato quando lavoravo nel settore alberghiero però 5 stelle quindi nel settore dell'hospitality di lusso però ormai è in parte è in parte acqua passata diciamo che così per raggiungere qualche cosa a quello che stavate dicendo il problema è anche il fatto che oggi tutti i social media sono onnipresenti e sono immediati e penso non sia sfuggito a nessuno l'episodio all'episodio di Napoli dove hanno i garaggisti hanno ingaggiato una rissa per strada con dei clienti spagnoli che non volevano pagare il garage perché si sono trovati le auto danneggiate poi chi avesse ragione è torto gli diventa difficile poi comunque dirlo però fatto sta che vedi questi video girati dalla gente normale in cui vedi questo tipo sono un disastro sono un disastro delle donne per strada chi vuoi che venga poi a Napoli voglio dire come turista non vedi questa roba e dici me ne sto lontano purtroppo questi aspetti ci sono e sono diventati estremamente deleteri è chiaro che quello che fa notizia è il comportamento negativo non quello virtuoso quello virtuoso sì perché poi esatto i giornali cercano lo scandalo e quindi fornire questi pretesti qua purtroppo è veramente deleterio è così no per il dopo per il dopo estate mi chiedevi progetti eccetera ma devo partecipare subito all'inizio di settembre a un panel internazionale che è sempre una consulente chiaramente per a Munich Fabric Start è un panel sull'ecosostenibilità e sugli sviluppi a livello di utilizzo di nuovi macchinari nuove soluzioni in collaborazione con enti statali e nel rispetto delle normative che verranno poi emesse anche in futuro si parla di passaporto digitale dei prodotti di abbigliamento a partire dal 2030 la comunità economica europea si è già mossa in tal senso 2030 sembra lontano ma in realtà è dietro l'angolo e quindi le aziende del settore cominciano a preoccuparsi di questi aspetti se vogliamo più tecnici è un panel molto tecnico questo a cui parteciperò ecco questa è forse la cosa più importante poi il resto è la routine di consulenza poi le scuole via dicendo tutti presenti a uno o più di quegli appuntamenti che avremo in settembre ottobre Go International l'assemblea Go International passerò sicuramente quello senz'altro ero anche in dubbio se partecipare o meno come espositore c'era anche un collega che credo aveva postato la richiesta di condividere costi dello stand eccetera ho tentennato per un attimo ma poi dopo spese mie personali mi hanno portato a rimandare a un'altra data ma come partecipazione sì quella in Trentino è sicuramente interessante però insomma non è dietro l'angolo e quegli impegni attuali non me lo permette non sapevo di quella di Padova quella mia era del tutto sconosciuta l'hanno l'hanno appena lanciata però è la prima edizione e ti dico che come partecipazione di un Expo Manager ne abbiamo parlato due giorni fa in direttivo quindi è fresca 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 è fresca ancora la cosa sì assolutamente ecco quello potrebbe valere la pena magari fare fare un salto eccetera capire un attimino il meccanismo come funziona perché se ho capito bene comunque sono è prevista anche una certa affluenza e l'ambizione stanno lavorando su questo non sappiamo quanti saranno i partecipanti effettivi beh la regione si presta voglio dire come potenziale di clientela di PMI eccetera e anche come necessità che potrebbero che potrebbero avere a tutto tondo non solo per l'export come dicevate voi giustamente prima ci sono tanti aspetti però why not ci si può fare un pensiero ecco bene ottimo ok noi quando rientriamo Giovanni come vuoi se qualcuno è interessato al tempo turistico ricordo che dal 9 all'11 c'è il TTG a Rimini 9 all'11 di agosto no di settembre settembre ottobre 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 dal 9 all'11 di ottobre e poi vado ancora perché è stato molto interessante l'anno scorso al World Travel Market di Londra che è dal 5 al 7 di novembre per cui se magari qualcuno è a Londra e tra l'altro è nella parte nuova di Londra molto bella dove hanno fatto anche quella specie di funivia è una roba strana sul Tamigi ed è una zona molto interessante con parecchie aziende con parecchio movimento da questo punto di vista quindi se qualcuno da quale parti mi trova il TTG il World Travel Market no lì per fortuna comunque il sistema Whatsapp sta funzionando è di trovarci con comunicazioni interne fra associati insomma no niente chiedevo prima Giovanni se hai già deciso quando fare il prossimo salvo sorprese che bene e male ci sono state diverse nelle ultime settimane l'idea di di fermarci oggi e di cominciare il 30 agosto quindi abbiamo già una coppia già definita per il 30 agosto dico a meno di sorprese che nel bene e male ci sono state poi seguendo anche un po' l'onda del sondaggio che si è fatto qualche settimana fa appunto con la ripartenza diciamo 30 agosto comunque siamo fatti di cominciare con un venerdì sì un venerdì no e con anche una forma un po' rinnovata dove cercheremo di coinvolgere maggiormente ospiti autorevoli prevalentemente dal mondo dell'impresa e dal mondo istituzionale quindi cercando di potenziare anche il panel se vogliamo appunto dei nostri interlocutori cercando anche di avere una base diciamo di partecipanti come auditorio che possa essere più corposa rispetto a quello che abbiamo visto per vari motivi negli ultimi mesi tu Marco prima hai parlato di fase di stanca può essere dopo 4 anni che effettivamente uno strumento o un appuntamento abbia necessità di un po' di restyling quindi sicuramente c'è ci abbiamo fatto ci abbiamo riuscito 5 anni una volta alla settimana e roto e non è infatti ci abbiamo riuscito sopra con estrema serenità da questo punto di vista proprio consapevoli dell'ottimo risultato fatto fino ad ora e cercando di vedere come rilanciare posto che c'è una pluralità di appuntamenti in presenza che si stanno realizzando come accennava prima Giuseppe solo tra settembre ottobre già 3 per cui c'è questa cosa che appunto negli anni scorsi non era sicuramente così predente per rispondere alla domanda di prima Giuseppe aggiungo anche che io appunto conto ovviamente di esserci a Milano nella due giorni chi ci ascolta in diretta adesso e chi ci guarda la registrata ricordo che conviene per notarsi e dormire a Milano perché faremo l'assemblea nella sera del primo giorno quindi il 25 settembre non riuscirò ad esserci a Padova perché sarò a Parigi mentre cercherò di essere all'evento a Merano mi incuriosisce quindi spero di riuscire ad esserci a meno giorni questa è un po' la mia speranza quindi tornerò a Parigi per se prima parlava di cose nuove è una cosa un po' nuova che sto facendo seguendo un caso con una sorta di un'azienda insomma con quale collaboro da tempo abbiamo un arbitro che è un arbitro francese per un caso dopo un reclamo di un cliente quindi ci stiamo lavorando lo incontreremo a ottobre per vedere come procedere nelle prossime passi quindi quando tu dicevi che gli expert manager richiesti di tutto anche di interagire anche anche ci mancava l'arbitraggio adesso buona aumenti le tue skill professionali va bene no 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 ampli le tue skill professionali ovviamente avremo tutti preferito evitarcela però speriamo che quella va bene bravo dai allora vi saluto ci vediamo buon vacanza a tutti buon buon anno di sosta e via con il lancio con la ripresa a settembre anzi al 30 di agosto mi correggo scusami a meno di sorprese 30 di agosto ok benissimo dai presto grazie grazie a tutti ciao a tutti ciao